ove 24 24 no c'è la regia sembra 3 fps però no no però no si è sistemato vero e quali mi ha trovato su coni sali su intanto lo faccio da guida da andrei stai scendendo cioè il tuo nome lo vedo che seconda ma sembra di più invece di salire stai scendendo no sono io non mi sono amirò tani è anche quando quando non vedo nulla è tutto buio ma è tutto buio ma questo salito ho detto sali qui dove te ne sei andata con il corpo faccio un'altra salita oh e qui c'è un non è che sono solito se arrivato a scendeggio scendeggio quanto ha avuto troppo aspetti di nome smeranti sono giù io mi butto giù che ti e bottiglio al mio bocchio metri non ha detto da un'azione ma non è ancora finita di fare testa come forse io ti e vabbè non serve vabbè tanto non funziona c'è però prendi riprendi 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 come premete tutti di tutto stesso sul letto così si salva lo spazio minchia curnutu che cosa e ali lo picchia ma perchè lo picchi io ho 3 diamanti se ti può interessare che me ne frega del diamante eh vabbè ho capito perchè è buttato a terra tutti sti cosi perchè ali l'ha picchiato e il commercio si è interrotto no ma vende le prega di diverso tipo anche quelle di però costano un casino non ci bastano tutti tutte me le avete date si non so questi c'erano 39 minchia pochi ali ti dovresti mettere i pantaloni non so se lo sai oh si vergognata scusa eh 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 ragazzi guardate che ho scoperto venite noll è un filo d'arba che esce da lì non è un jump in puzzle se non c'è non è un jump in puzzle senza un po' di lava prova una delle del sole mille zittu off oh dear questi giorni se tu vuoi prendere per le scale spazio vabbè ok l'ho superato no non è l'assenza noi scendiamo non è l'assenza ah ma che cazzo vabbè ti mette pure la sta facendo un cazzo spiagli e non ci riesce eh Dani vuoi fare un passo indietro ah lì tu prendi le sale sì lo so oh forse era meglio che gli smeraldi le mettevo nella eh mettili infatti mettila nella access vieni 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 no scendi che era amore sicuro aspetta 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 che mi levo ah pensavo che eri stato tu a cadere vieni uuuuuu porca metto pure questi due che c'ho io che li ho trovati nella città lassù e mi laga e mi è tornato a lagare no il cazzo c'entra questa c'entra ah vero è personale l'ender chase per questo mi risultavano solo i miei e non i tuoi oh ciuuu ma perchè ciuuu e Adi muore Adi prendi le scale vabbè hai capito dai vai vai Dani vai vai dove si che vai sei presa in questa si vai no ho scavolato ho scavolato ho scavolato ahia sono caduto per te ora dovevo andare a dire ora dove hai detto mancante ho ostruito ok non funziona quindi no ma lì c'è andavanti che ti teletrasporti da lei da me al massimo no io sono morto eh ti teletrasporti da me non da lei che è già finito praticamente no no lei se teletrasportata da me eh lol c'è il bello che hai ricaduto vai dove siamo dove si vai lì oh oh hey oh let's go no no lag potente ah ecco ti minchia non ti vedevo non c'è niente yippiii ambio mi sai che abbiamo fatto 3 smeraldi nooo addio jungle man sei stato un buon amico aaaaaaah merda ali non morire come ali non morire ali stai ferma non ti muovere nessun motivo non guardare nemmeno le mosche perché potrebbero ucciderci lì oh mio dio oh dove si dove cavolo siamo ora oh io sto sbierlando oh io sto sbierlando che po' le minecraft l'hanno fatto pesante oh non so lì ho trovato una cestia lì ho trovato una cestia lì ho trovato una cestia ma dovremmo dovremmo lottare perché se ci ha fornito di spade è un motivo che ci sarà mi sa e perché io non ce l'ho oh oh ma perché ce n'erano solo due che bastardi vabbè noi facciamo i tank ali tu pensa a destra e io a sinistra intanto lei ti ammazzate andrea tieni questi smeraldi andrea tieni questi smeraldi andrea tieni questi smeraldi non so se li vuoi ma tieni questi smeraldi o andrea non so se mi hai sentito ma adesso ho dimenticato uno smeraldo o andrea dietro un altro smeraldo ma tutte queste trip wear che alla fine erano solo due zombie congratulations not to finish the test yeah un letto pieno di zombie speriamo che qualcuno di loro troppo una spada sì che non ce l'hanno non l'hanno fatto vero perché non ce l'hanno trade comprami un'armatura va bene aspetta io ti posso dare casco e stivali vabbè scusami casco e pantaloni che quale indiamante costa 50 smeraldi eh ma non comprare quelli indiamanti comprami almeno quello che vuoi te and aspetta tieni ippi le smeraldi per te iiii arcobalè l'hai presi quelli dalle nascisse danni prenditi un letto con too many items eeeh dov'è? qua e il letto fu ma io dormo in mezzo cioè no non sto dormendo in mezzo merda merda va andiam ero un vestito no aspetta questa mappa è fatta solo per due giocatori fanno il culo vabbè quattro questo quattro ah cecchinaggio dobbiamo fare si è mio no bastardo voi avete le spade e io ho l'arco problemi si è aperto ippi ah devi fare ora un trick shot ciao però se voi vi levate davanti rimbalzano a voi però no non puoi salire lì mi sa no l'ho preso ti devo vi dovete levare e rimbalzano a voi le frecce lo sai che sei comico con sto arco in mano e fai così ovviamente è vero c'è qui col salto pure proprio alla prova alla prova alla prova alla call of duty call of minecraft si call of minecraft che non mi è giocato non mi è giocato ma però mi è giocato non mi è giocato ma mi è giocato che non mi è giocato troppo a sinistra troppo a destra troppo lei preso ho preso uno ma perchè si è disattivato vabbè ma si può già scendere vuoi scendere? serviva solo uno e qua che c'è? uh, tanti smeraldi I'm a fucking genius mi so un altro segreto guarda quelle sceste che c'è dentro? smeraldi che cosa ci può essere? tieni, ho dentro di te vale a freddo solo due che schifo veramente sono un 6 ma vabbè come sei? erano 6 welcome to the city of light welcome to the city of light ah un libricino prendo io libro allora border guard ciao ebbene golly gash golly gash sei tu l'unico che che ha salvato minecraft io perché nella terra taking the border control della terra di garglor no ma che perché al mondo stai pro facendo il controllo test la della di test gravidanza lì tu test lag test lag questa guardia questa guardia me l'ha fatto fare è vera davvero una border guard stava indossando una uniforme bianca viene da pensare che non sapevo che lo era oh noi dovevamo avere un impostore in città e tu e i tuoi e i tuoi vabbè i tuoi i tuoi menti allo stelz smash quartier generale impostore ah vabbè ti ha ritardato oh my gosh ma mi si dia leggere la divina commedia in inglese oh my gosh oh my god devo arrivare al quartier generale e trovare e capire che cazzo sta succedendo buona fortuna happy face smiley face sì ma dammi del cibo donna donna dammi del cibo cibo dammi del cibo lol non ce l'ho ma lo dai dal cibo non ce l'ho sono a secco pure io ah li dammi del cibo oh la carne di zombie ah ma siete inutili però allora il villaggio il parco il mercato lo sperma hd che cazzo come andiamo prima il villaggio a sinistra ma dobbiamo andare allo servo hd ma no non andate dal fondo guardi facciamo da 1 a 1 fin dall'inizio no dobbiamo andare a destra e c'è sono tre smeraldi semplicemente per avere raccoglietti per avere raccoglietti no me li date dopo in blocco non me li dare tutt'una alla volta è più feco che c'è qua dentro un letto e una torta mangio daily house ok dai ti cazzo è il grano può prendere ma vabbè tanto non si può craftare quindi è inutile prenderlo eh perché ci sono delle leve perché il solibro in mano ce l'ho ancora io lo dovrebbe avere sono dei lavandini per questo c'erano quelle leve erano dei lavandini vabbè ora sono dei lavandini che funzionano all'insu va bene e tu naturalmente non controlli nella fornace c'erano tre smeralti ma certo che proprio tu ingegno e me li dai poi me li dai cazzo poi me li dai ah che di che di che di qui c'è una cassa con un poesclamativo di sopra è una decorazione gialla non si ha fatto in decorazione guardatevi abbiamo fatto in assassin street invece no 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 basta infatti c'era c'è qualcosa su è pieno di ceste sugli alberi e che cazzo che schifo quattro smerali altri tre una mela una cesta con una mela giuridius nell'albero c'è una mela dell'albero c'è una mela per la serie dell'albero c'è una mela ho trovato intanto l'obiettivo della nostra missione innanzitutto ma dove siete io mi sono perso io sono al mercatino al mercatino delle pulci lol questo vende smeraldi per uno smeraldo dammi uno smeraldo no io invece direi non ci credo il dio quello che vende patate è per via per pranzo questo vende le lepe vero questo vende patate andato a via per pranzo e tu che cosa succedere perchè hai sceso prima ah perchè quasi puoi scendere e che cosa ci fa cosa si cosa si fa qua sotto no quello che ma io quello che vende gli smeraldi è sparito ha andato a mangiare ha andato a mangiare pure lui dammi dai polli dammi tanto polli 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 con forlani questo si è andato per il lunch mercato nero come mercato nero mercato nero mercato nero cosa che vende le mele la torta il grano i meloni non mi interessa torna più tardi va bene uuuu creepy brai draven asche quindi praticamente suoni adesso ci risentiamo nello stesso istante ma qui c'è un altro negozio non so come si chiama ma c'è un negozio poi guardate no ehm lo sperm hd questo cosa vendono questo per degli smeraldi questo cartello lo ti do no questa è la come si chiama la reception professore tanta dalle no ma questo 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 mi ha dato una città una vieni qua and ali andrea tieni mi ha sputato via questo libro oh grazie me lo leggerò questa notte e se le preso ali allora questing professor ray perchè sei in ritardo tu scusi ho dimenticato di alzarmi un momento di strano silenzio pass professor ray ho capito ehm non è che stavi ehm non è che stavi cazzaggiando con il prete di nuovo lol in che senso io credo di averti detto di averlo di averti detto che tu devi stare da te lo dici in una voce hushed che non so cosa voglia dire sorrei guarda qui ragazzo non c'è nulla eh di cui di vergognarsi a proposito noi abbiamo ci siamo riusciti abbiamo fatto tutto comunque ho bisogno che tu dia una mano ad aiutare in giro in città e allora quindi l'espinata poi due ero il